E cambiamo argomento al via un fine settimana da Bollino Rosso su strade e autostrade della nostra regione. Allora vediamo come è la situazione indiretta con Alessandra Canale dei servizi RAI di pubblica utilità. Alessandra. Sì, buonasera Virginia. Grazie della linea. Flussi veicolari vivaci su gran parte delle strade della nostra regione. In questo venerdì sera, come hai detto tu, da Bollino Rosso, soprattutto in uscita dalla capitale per gli spostamenti pendolari dovuti ai rientri delle attività lavorative che si sommano anche alle partenze estive. Gli spostamenti oggi sono favoriti dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in atto fino alle ore 22 di questa sera. Ma monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta dalla barriera di Roma-Est, flussi veicolari vivaci. Analoga situazione la ritroviamo sulle tratto capitolino, ma abbiamo delle code verso il centro tra Portonaccio e Galaplacidia. Molto trafficato invece il grande raccordo anulare e abbiamo delle code nel tratto compreso tra Bufalotta e Tiburtina e tra Laurentina e Casilina. Ultima notizia riguarda la 12, la Roma-Civita Vecchia, che ci sono delle code al momento tra la barriera di Roma-Ovest e lo svincolo di Cerveteri in direzione della strada statale 1 Aurelia. Queste le notizie di maggior rilievo. A te Virginia e buona serata. Grazie e noi andiamo avanti. Grazie a tutti.